Il Comune di Arezzo non si costituirà parte civile nel processo Coingas-Estra-Multiservizi. Il Consiglio Comunale infatti ha bocciato l'atto di indirizzo presentato dalle opposizioni, PD, Arezzo in Comune, Lissaralli e Movimento 5 Stelle. Dopo che per ben due volte è mancato il numero legale, questa mattina alle 12 così la maggioranza si è presentata in Consiglio Comunale ed ha partecipato alla votazione. presenti 30 consiglieri, di questi 18, tutti facenti parte della maggioranza che sostiene il Sindaco Ghinelli, hanno votato no alla Costituzione del Comune a parte civile nel procedimento penale. La maggioranza propone invece un atto unitario che sarà discusso il prossimo 30 marzo. Al fine fanno sapere della piena tutela degli interessi patrimoniali del Comune e di Coingas. Intanto è arrivato il giorno dell'udienza preliminare del processo che vede tra gli indagati anche lo stesso Sindaco, l'assessore al bilancio Merelli, il presidente di Estra Francesco Macri, l'ex amministratore delegato di Coingas a Sergio Saderini e l'attuale Franco Scortecci. L'udienza di fronte al GIP dovrebbe infatti celebrarsi il 23 marzo, ma il condizionale resta d'obbligo in quanto pare ci sia un possibile difetto di notifica ad uno dei 13 indagati. Questo ovviamente rischierebbe di fare slittare il tutto.